Sindaco, la città del futuro parte dai giovani e si baserà principalmente sul turismo? Sì, due affermazioni esatte. Parte dai giovani e si basa sul turismo, ma i giovani partono sia perché è rivolto a loro e sia perché i giovani sono capaci di coinvolgere l'intera popolazione, cioè l'intera comunità attraverso i giovani e capaci di costruire il loro futuro e il futuro di questa comunità. Il futuro dei giovani non deve essere creato solo e semplicemente da noi. I giovani l'hanno capito e la dimostrazione è stata data anche in questo incontro che abbiamo tenuto stasera con i ragazzi che loro vogliono costruire il loro futuro, non vogliono che debba essere costruito da altri. E riparte anche dal piano strutturale comunale che è stato uno strumento in molti comuni, ha avuto difficoltà a vedere la luce e invece qui c'è un'idea chiara proprio della città materiale da riempire di contenuti. Sì, e questa è la scommessa che è sul PSC che è impiegato degli anni per realizzarsi, ma è impiegato degli anni perché non doveva essere semplicemente scarabocchiare delle pagine, ma era costruire una visione di città, una visione di città che avesse gli strumenti per non solo camminare, ma per poter rigenerare il proprio futuro, un proprio futuro fatto di ricchezza. Quando parlo di ricchezza non è la ricchezza in termini solo economici, è una ricchezza culturale, ricchezza sociale, la ricchezza di una comunità che attraverso le sue tradizioni e le sue bellezze vuole ripresentarsi e dare risposte ai suoi cittadini, attraverso una formula semplice. Noi siamo capaci per cultura, siamo capaci per i nostri sentimenti che siamo disposti a donare, siamo capaci di fare turismo, un turismo nuovo, di qualità. Credo che Scetato possa ritornare in termini diversi, nuovi, possa ritornare questa piccola perla del terreno che era negli anni 60 e negli anni 70.